Il leader della Lega interviene sul caso, dopo le barricate dei 5 S. A Team, e quindi All Italia, servono un partner ed un piano industriale che valorizzino e rafforzino l'azienda, non un'operazione finanziaria che rischia di portare ad uno spezzatino di una realtà così importante per il paese? Inoltre, visti i non brillanti risultati degli ultimi mesi, il cambio ai vertici auspicato da più parti pare tema non più rinviabile. Così il segretario della Lega Matteo Salvini commenta la proposta d'acquisto di Team da parte di KKR, il Fondo Infrastrutturale Americano. Grazie a tutti!